Era stata trasformata in una grande discarica a cielo aperto a pochi chilometri dal centro cittadino. Un'area estesa su oltre 300 metri quadri adibita abusivamente alla raccolta di rifiuti speciali di diverso genere, molti dei quali pericolosi. A scoprirla sono stati i militari della Guardia di Finanza nel corso di un servizio di controllo nel territorio di Trani, precisamente nei pressi dello svincolo Trani Nord della strada statale 16. Sul posto le fiamme gialle hanno rinvenuto circa 100 metri cubi di rifiuti, parti meccaniche, pneumatici, elettrodomestici, ma anche attrezzature industriali dismesse e materiale plastico e ferroso. Il terreno presentava inoltre delle vistose chiazze di sostanze oleose, presumibilmente fuoriuscite da fusti e veicoli abbandonati penetrate nel sottosuolo. I successivi accertamenti di natura tecnica hanno portato al sequestro preventivo dell'intera area, così come disposto dall'autorità giudiziaria per evitare ulteriori gravi conseguenze derivanti dall'abbandono e dallo smaltimento illecito. Il proprietario del fondo, titolare di un'attività di impresa, è stato denunciato con l'accusa di gestione non autorizzata dei rifiuti in violazione delle norme del codice dell'ambiente. È stato disposto a suo carico anche l'obbligo dell'immediata bonifica dell'area.